La Siole ci sono delle novità per quanto concerne questa annosa vicenda della carenza di pediatri di libera scelta in Val Pescara e ora la palla ancora di più passa alla Regione. Sì, perché dal 28 di aprile c'è il nuovo accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta che prevede delle importanti novità. Sintetizzo in particolare l'articolo 30, il nuovo rapporto ottimale che prevede una serie di deroghe. Deroghe per la morfologia del territorio e noi parliamo di Val Pescara dove ci sono 13 comuni anche distanti tra di loro ma parliamo anche dell'area vestina, l'ambito vestino di 11 comuni. In entrambi ci sono due pediatri per tantissimi bambini con difficoltà dei genitori di spostarsi con i bambini ammalati da una parte all'altra con l'impossibilità anche di pediatri di far fronte a tutti questi bambini perché raggiungono spesso normalmente il limite massimo dei bambini. Questo prevederà delle deroghe, delle deroghe possibili sia nell'accordo integrativo regionale sia a livello aziendale semplicemente con un confronto con i sindacati di categoria. C'è un problema però, questo per una norma transitoria entrerà in vigore al massimo tra 18 mesi. Noi oggi vogliamo chiedere invece all'assessore Verì sulla base dell'accordo del 2005 e sulla base di quello che prevede questo per il futuro di fare veramente un'operazione verità, di chiedere delle deroghe che sono consentite in tutte le altre regioni anche per questi due ambiti, quelle della Val Pescara e della Vestina e consentire quindi un terzo pediatra. La novità è che è entrato in vigore il nuovo accordo collettivo nazionale. Questo nuovo accordo prevede che la regione laddove ci siano i presupposti possa individuare delle carenze in base anche al territorio in questione senza dover necessariamente attendere la risposta di sindacati. E' la giustificazione che finora ci è stata data dall'assessore. Adesso l'assessore se vuole può darci un nuovo pediatra perché noi la problematica l'abbiamo ampiamente dimostrato di avercela, quindi può darci questa soluzione senza necessariamente dover attendere la risposta di sindacati. Bisogna chiedere un parere assolutamente come prevede l'accordo nazionale ma non è un parere assolutamente vincolante.